Sono due dirigenti del centro radiologico, in qualche modo il dottore Napoli aveva anticipato questa vicenda e la storia è molto interessante perché nel paese dell'accoglienza arriva anche il centro radiologico, come? Sì, lo studio radiologico ha avuto l'idea, assieme a Jimuel, di quel responsabile, il dottore Napoli di aprire un ambulatorio qua a Riace appunto per venire incontro alle esigenze legittime che hanno tutti gli immigrati che ci sono qua a Riace, ma noi non ci limiteremo a dare l'assistenza solamente agli immigrati tutti coloro che hanno necessità e bisogno di avere un servizio sanitario che noi speriamo, ci auguriamo che sia all'altezza avranno la possibilità di farsi curare qua in questo ambulatorio che vedete, che è attrezzato anche i diacesi? Sì, anche, anche, tutti coloro i quali hanno necessità è un ambulatorio che abbiamo attrezzato noi, lo studio radiologico ha sostenuto le spese per tutto quello che vedete naturalmente lo studio radiologico farà gratuitamente, darà le prestazioni gratuitamente a tutti coloro che hanno necessità qua a Riace di avere prestazioni, di avere prestazioni, di diagnostiche di avere immagini, quindi la radiografia, TAC, risonanza magnetica, fotografia, lo studio radiologico darà gratuitamente a questa assistenza avendo visto questa bella realtà abbiamo ritenuto opportuno di supportarla con questo servizio sanitario che riteniamo, ripeto, molto importante Dottore Napoli, lei in qualche modo l'aveva anticipato in una delle puntate di domenica in piazza di fatto, che tipo di esami fate qui in loco? Dunque, la prima cosa che mi piace dire è che lo studio radiologico non è la prima volta che si impegna in queste azioni, tra virgolette, umanitarie ha sostenuto dall'inizio l'esperienza dell'associazione CIMUEL quando questa associazione si era rivolta alle latitudini del mondo dove i diritti più elementari non sono diritti ha supportato l'azione mia e della mia associazione nelle Filippine e poi in Kenya e in Congo ci siamo guardati più da vicino e ci siamo guardati nei nostri pressi, nei nostri paesi perché la crisi economica che si è abbattuta sul nostro paese, sull'Europa, sul mondo ha prodotto risultati spaventosi, un impoverimento pauroso il 12% della popolazione nazionale in Calabria presumo che sia molto più grande questa percentuale dei cittadini dei nostri connazionali non accedono più ai servizi sanitari perché i costi indotti dalle prestazioni sanitarie sono impossibili per molte famiglie e abbiamo ritenuto intanto che Riace meritasse la nostra attenzione perché a Riace c'è un pezzo di quel mondo transita comunque un pezzo di quel mondo al quale ci siamo sempre rivolti e anche perché Riace è un paesino della Calabria dove la povertà e la miseria in questi anni sono diventati un fenomeno molto più diffuso di quanto non fosse fino a qualche anno fa come funziona il sistema? il sistema sfrutta, tutto sommato abbiamo copiato il sistema di lavoro dello studio radiologico una buona parte dell'attività dello studio si svolge in telerefertazione noi abbiamo fatto la nostra esperienza in teleconferenza il primo ambulatorio è nato nelle Filippine dove c'era una comunità di suore che ci supportava ovviamente ci portavano i bambini davanti al monitor e noi facevamo quello che facevano i medici 50 anni fa cioè visitavamo il bambino per come era possibile ovviamente con tutti i limiti della cosa raccoglievamo le notizie anamnestiche costruivamo una cartellina clinica che poi mettevamo a disposizione di tutti gli specialisti che erano dichiarati disponibili a collaborare con noi questo consentiva nell'arco di 24 ore di avere consulenze anche importanti perché ricordo un caso in particolare di un bambino con un neurinoma dell'oftalmico del nervo oftalmico che cresceva dentro il cranio che rischiava di ucciderlo un giorno riuscimmo a fare in teleconferenza una consulenza tra la neurochirurgia oculistica del bambino Gesù di Roma la pediatria e l'oculistica dell'ospedale di Locri e la neurochirurgia dell'ospedale universitario di Manila il Santo Thomas e lì fu fatta la diagnosi di questo bambino e si decise di operarlo il bambino Gesù aveva proposto e si era dato disponibile per coprire tutte le spese per il trasferimento in Italia del bambino ma a quel punto scattò l'orgoglio nazionalistico dei medici filippini e preferirono tenerselo a Manila e operarlo noi abbiamo seguito quel bambino nel corso di questi anni che oggi vive perché era un bambino solo che non aveva famiglia e vive presso la comunità delle Suore a Paragnac che è un quartiere poverissimo di Manila ecco questo è il sistema molto semplice molto non intendiamo sostituirci a nulla è bene sottolinearla questa cosa il Servizio Sanitario Nazionale da noi non deve avere l'idea che si tratti di una concorrenza ma di supporto tant'è vero che in questo ambulatorio farà ambulatorio il medico di medicina di base di questa comunità il dottore Bova che a giorni prenderà servizio proprio dentro questo ambulatorio e svolgerà le sue mansioni senza interferenza da parte nostra noi intenderemo fare dei progetti specifici oltre alla medicina generale progetto donna sappiamo che tutte queste donne che provengono da paesi africani hanno subito mutilazioni o hanno situazioni devastanti a livello ginecologico abbiamo già la disponibilità di tre ginecologi che saranno di nostro supporto per questo progetto il progetto delle vaccinazioni con il responsabile dell'ASP di Reggio Calabria il dottore Mammi che ha dato la sua piena disponibilità a venire a verificare le vaccinazioni che hanno già avuto questi bambini somministrare quelle che non hanno avuto e ancora altri progetti tipo quello dontoiatrico per esempio mi è stata data la disponibilità di un giovane dentista il dottore Pancallo di venire a fare opera di volontariato come dentista in questo ambulatorio e un'ultima cosa che voglio dire i farmacisti della provincia di Reggio Calabria stimolati dalla dottoressa Calderone ho visto dei farmaci prima esatto, sì ci hanno donato con un atto di generosità molto bello una quantità incredibile di farmaci che noi utilizzeremo per distribuirli qualora dovessero essere necessari in questo ambulatorio grazie a tutti